ciao a tutti siamo di nuovo su minecraft dopo tanto 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 tempo e siamo sempre qua con superal 2008 bella a tutti sono ritornato finalmente eh beh oggi continueremo la nostra avventura su minecraft come sempre e come potete vedere lol sta registrando superal 2008 e avete visto la mia skin power skin power si è una skin mamma mia creata con le mie manine l'unico 6 allora vai allora buttiamoci aspetta e tu vai a vedere se il grande maturo il grande maturo il grande maturo alberto dai su il tutto giù buttate il grande maturo allora ah ecco grazie si e non ti ricordi che l'abbia piantato tre secoli fa albighi c'è una tigre non ci sono le tigre no davvero ah si io ho solo con le robeli i gatti sarebbero eh non farla scappare e cosa faccio oh 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 ho vinto una cosa incredibile vieni 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 vieni... dove 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 vieni vieni qui dove sono io sono dietro alla casa verso dall'altra parte 27 euro e vieni da me seguilo vai sono qui vieni 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 speriamo smetta di piovere mi sta da tutto troppo fastidio oltre il se sto notando diretta io fa qualora lo squit le liste iii calamari amata la tucina mi hai fatto tutto questo casino per lega la mano no 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 guarda del deserto verso il fondo vedi il deserto laggiù c'è un tempio una piramide guarda io mangio un attimo che ho fame non ci credo è una delle novità dell'1.3 attenzione che non è tanto non è tanto perché c'era della tnt mi pare roba del genere non sono un esperto io allora benissimo non entrare aspettami di ricordati che sto registrando io quante frecce ho? 6 sono forte io ho le frecce anche sono un power che cos'è l'umore? eeeh 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 sarebbe la canzone di iii di di questa grazie ah ok abbassava solo perchè dà leggermente fastidio allora la mia passare per anni io ce l'ho io ce l'ho abbassata al massimo allora guarda guarda che baggata qui non si può salire non ci credo allora aspetta no attenzione no e io ti seguo oh my god ma puoi trovare qualcosa qua si in fondo in fondo ci sono dei di una cassa con dei diamanti mi pare roba del genere mmm diamanti solo due secondi che mi devo consultare col mio segretario oh oh mamma 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 ok ci sono ok allora seguimi c'è una trappola e ho scoperto dov'è grazie al mio segretario allora praticamente vieni qui se spacchi il cubo il cubo di lana blu in fondo in fondo c'è una trappola con della tnt e salti in aria fai allora devi fare molta attenzione guarda vedi guarda guarda vedi la pressur si ora spostati che devo fare che anche se cade un cun ah no è vero è che mi non posso attivare la pressur di di pietra mi pare attenzione stai calmo tutto sotto controllo più o meno no 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 sono due casse tre quattro oh my god immagini 16 diamanti eh se non lo so ma ce ne sono un po' dipende sono random le cose quindi speriamo bene non starmi dietro oro oh devo aprirle io petru sono io quello che non toccare la pressur aspetta ho spaccato la tnt che era sotto guarda guarda qui sotto pedro qui dentro c'è ferro, ossa, oro e carne e marcia qui dentro c'è niente qui dentro c'è niente cosa hai trovato? ho trovato due diamanti eh 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 ti ho fatto basta eh un eh un eh un smerado si eh poi eh cin... no dieci di ferro lingotti di ferro sette lingotti di oro e tanta carne di zombie tanta? si ok torniamo su guarda che belli sti cubi io ne scippo un paio sai com'è cos'hai fatto con la tnt? si l'ho presa ma sai non si sa mai tipo se vediamo da sopra dalla casa dell'albero eh eh no allora se tipo da sopra la casa vediamo sotto i creeper li bombardiamo facciamo il bombardamento aereo dai su allora torniamo su va abbiamo devastato sta cosa qui non prendiamo le ceste ne abbiamo abbastanza cosa ci servono 40 ceste allora dobbiamo scippare la lana visto che ci serve per fare i letti giusto giusto da prenderne almeno sei io sto qui faccio fuori la facciata i vandali noi siamo i vandali no 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 dai su no allora no io ho già due pezzi tu quanti ne hai di cosa di cosa ehm nessuno ok voi ne prendo un bel po' qui facciamo anche quadri così qualcosa per abbagliare la casa dai intanto ma oltre le piramidi cosa c'è di nuovo ci sono delle tipo dei templi della giungla è vero volevo andare a cercare ma poi nelle caverne tipo non c'è più niente mi pare ok ho preso un po' di roba che ci siamo portati a tempo indietro e sta facendo buio infatti secondo te perché andiamo indietro scappa ok ho preso due di la lontina me l'ho presi dieci ho fatto fuori metà facciata l'abbiamo distrutta se ti potevo poi li facciamo esplodere la tnt dentro vuoi la nostra casa si è da montaniss eh beh ne che opera d'arte allora mi dica bella la casa che l'ho costruita mamma mia allora si ammessi abbastanza male perché sera e abbiamo poco cibo io mi mangio gli ultimi biscotti hai raccolto un po' di cosa? di grano? no vabbè ma dovrebbe bastarci per stasera andiamo a crearci letti va?